Amici del Bardo vi voglio comunicare che la seconda serata di NXT Stand and Deliver sarà disponibile nella sua interezza su Discovery Plus a poche ore dalla messa in onda americana. La troverete infatti in catalogo in lingua originale da venerdì 9 aprile insieme ovviamente alla prima serata che invece sarà già on demand dal giorno precedente. Vi sarà dunque possibile vedere tutti i match dello show compreso Finn Balor contro Karrion Kross e Adam Cole contro Calo Raleigh. Pertanto fatevi un nodo al fazzoletto e se siete a bordo del treno Discovery guardate lo show in maniera legale. È l'unica strada per fare in modo che questo primo passo diventi magari in futuro qualcosa di più. E visto che ci stiamo avvicinando alla settimana di Vrestelmania ricordatevi anche di iscrivervi al mio profilo Twitch. Cercate Michele Posa sul social Viola perché di sicuro farò qualcosa a tema anche su quella piattaforma ovviamente in vista dello showcase degli immortali. Mi raccomando vi aspetto.